La sua comunità continua a fare notizia dopo aver raccolto i migranti che erano in mare e che erano veramente in una situazione di difficoltà? Guardi, più che la mia comunità sta facendo notizia è il bene che deve fare notizia la capacità quella notte di far emergere tutta l'umanità che c'è dentro ogni persona ecco la mia comunità è stata capace di questo e con quel grande gesto stiamo dando risonanza al bene e all'altruismo delle persone che incontrano altre persone, questo è positivo Sindaco, cosa rappresenta questo riconoscimento di lega ambiente? Ecco, soprattutto riconosce la capacità di un territorio e quando parlo di un territorio non parlo solo ed esclusivamente del territorio di Melisse e della comunità di Melisse ma è un territorio calabrese che ha sempre dimostrato grande solidarietà, grande accoglienza e soprattutto grande altruismo. Ecco, abbiamo confermato questo valore che è un valore eterno e sostanzialmente deve essere necessariamente universale. Un modello che dovrebbe essere preso ad esempio anche dalle altre comunità? Necessariamente sì, oggi viviamo una grande crisi di modelli di riferimento però devo dire la verità, io penso che ce ne siano tantissimi altri ribadisco c'è una grande umanità, molte volte sommersa, non si riesce a darle visibilità però comunque nella nostra terra c'è questo e in maniera prerombente e forte Noi non dimentichiamo di essere un popolo di migranti anche noi Bravissimo, è così, se lei pensa che io ho avuto due nonni che sono emigrati in America che erano ragazzini, addirittura uno ha avuto la fortuna di partire in America con lo zio l'altro invece è stato messo su una nave ed è stato affidato a un signore che manco conoscevano lui era orfano, è stato messo lì e poi è stato raccomandato a questo signore e lì in America fortunatamente è riuscito a trovare un lavoro a dare la possibilità alla famiglia di vivere in maniera dignitosa quindi non posso dimenticarmi le mie origini e soprattutto l'origine di questo nostro popolo che è stato, come diceva lei in maniera molto avveduta, è stato un popolo di emigranti Rimanendo in tema un'ultima domanda per me, cosa si sente di dire a Mimmo Lucano proprio in queste ore? Guardi, la differenza tra noi e Mimmo Lucano è sostanziale perché noi siamo stati protagonisti di un gesto, lui è un modello di accoglienza e quindi mi sento di dire forza Mimmo vai avanti perché ha la stima ma sostanzialmente anche il supporto di tantissima, tantissima gente Sarete sempre pronti ad accogliere persone che arrivano via mare e che si ritrovano in condizioni di difficoltà? Non può essere che così e non può essere diversamente Cioè chi si trova in quelle condizioni come noi abbiamo accolto quei giovani kurdi ha il diritto ad essere soccorso e noi cittadini abbiamo il dovere di farlo Che cosa rappresenta questo decreto di Salvini per quanto riguarda l'immigrazione soprattutto perché oggi parlerà anche del dossier insomma ci sono grandi difficoltà per poter mettere in pratica il volontariato e soprattutto l'accoglienza? No, il decreto di Salvini nasce sull'onda emotiva di quello che è successo ora in Italia con il problema dell'immigrazione Lui ha sposato quella che è la causa degli italiani, almeno all'esito delle elezioni di dare una risposta alle forti correnti migratori che vi erano in Italia e ha un po' ristretto quello che sono gli ambiti di applicazione già dell'assistenza ai migranti riducendo in certo senso le spese, riducendo quello che è la copertura specialmente per quanto riguarda la protezione internazionale e il diritto d'asilo concesso ai migranti poi ognuno fa le proprie interpretazioni secondo che quella è la propria area politica se questa sia una buona legge o l'altra, io devo limitarmi ovviamente noi da operatori del diritto dobbiamo solamente limitarci a dire quello che è il dettato legislativo, il dettato normativo ha cambiato molte cose anche per quanto riguarda la concessione della cittadinanza la revoca della cittadinanza e il riconoscimento dello status di rifugiato è un'interpretazione diciamo più rigida rispetto a quello che era la normativa vigente fino a poco tempo fa dobbiamo dire che in realtà il Consorzio Gioele è sempre stato molto aperto a tutte le problematiche ha subito anche tante intimidazioni però dobbiamo dire che quello che avete fatto e che continuate a fare è sicuramente un segnale che questa terra non si chiude, si apre sempre di più all'accoglienza assolutamente, noi abbiamo subito diverse intimidazioni ma dalle intimidazioni ci siamo solo rafforzati siamo riusciti ad emergere, siamo riusciti a trasmettere il messaggio che noi vogliamo trasmettere quella della contaminazione positiva di tutto quello che di buono c'è sul nostro territorio sicuramente i progetti di accoglienza hanno arricchito il nostro bagaglio, hanno arricchito le nostre terre e c'è stato proprio con i migranti uno scambio di reciprocità, loro sono diventati per tantissimi territori della Locride fonte veramente di risorse e quindi oggi questa nuova posizione politica ci sta mettendo un po' in difficoltà. Certo, anche perché dobbiamo dire che molti hanno trovato lavoro nella Locride quindi questo significa che in realtà non è vero che sono trattati male o che dipendono soltanto dai finanziamenti dello Stato, si guadagnano il pane quotidiano anche lavorando e soprattutto con dignità. Assolutamente sì, noi grazie al consorzio dove praticamente essendo un'esperienza dove ci sono diverse attività all'interno del consorzio, noi abbiamo avuto modo di diventare punto di congiunzione tra la domanda dei migranti e l'offerta che in parte riusciamo a dare noi stessi al nostro interno quindi sono stati attivati percorsi di vera integrazione, di veri percorsi lavorativi e tantissimi di questi migranti oggi lavorano stabilmente nelle nostre aziende e nelle aziende del territorio. Ecco, oggi si parlerà del dossier che riguarda i migranti, qual è la situazione? Dal dossier emergono due situazioni che vanno in maniera parallela, ovvero all'interno degli sprare centri di accoglienza vi sono dei problemi sia a livello post-secreto da parte dei richiedenti asilo sia ovviamente dagli operatori che si sentono a mani legate non potendo più fare molte delle operazioni che facevano prima e dall'altra parte emerge una Calabria bella, c'è una Calabria che va al di fuori degli esprar, proprio sono i cittadini che riescono, come esempio Torre Melissa, che riesce ad andare oltre e a dare quel senso di accoglienza a chi lo ricerca. Quindi una terra accogliente è una terra che non si fa in nessun modo bloccare e fermare dai decreti legge? No, assolutamente no, anzi è una terra che indipendentemente dalle forme di associazionismo riesce a creare quei gruppi di accoglienza, infatti il dossier rispetto a qualche, l'anno scorso si vive in due parti proprio a descrivere la parte associativa, la parte degli esprar, la parte delle associazioni e la parte che nasce spontaneamente dai piccoli borghi, dai piccoli centri, dalle piccole comunità. Quindi la presenza non è diminuita di migranti nella nostra terra? Numericamente sì rispetto all'anno scorso ovviamente, ma la qualità dell'accoglienza si è diffusa, è il modello di accogliere al di là dei vincoli e si è diffuso. Il modello lucano continua a fare da apripista? Sì, continua a fare da apripista ovviamente. Dobbiamo dire che in realtà accogliere significa anche riscoprire le nostre origini? Sì, non solo, l'accoglienza è quello che spesso emerge in queste storie, non deve essere vista come qualcosa di negativo, ma può essere, anzi deve essere vista come un'opportunità anche per noi calaburesi. Dobbiamo dire che molte volte accogliere i migranti diventa un problema, come è successo a Lucano? Eh beh, io sulla situazione di Lucano non mi esprimo più di tanto perché ci sono delle indagini in corso, quindi preferisco che la magistratura faccia il suo dovere, però sicuramente l'accoglienza che ha fatto Lucano a Riance è da prendere come esempio. L'Egambiente in Calabria guarda tutto a 360 gradi la nostra realtà e si rende conto che c'è necessità, insomma, di tenere alta l'attenzione su questi migranti, soprattutto di permettere che siano accolti. Certamente, noi facciamo ecologia umana, insomma, quindi noi come l'Egambiente siamo propensi ad accogliere i cittadini che hanno veramente bisogno di un futuro migliore. Non c'è nessun decreto che può bloccare questa accoglienza? Ma per noi no.